Il nostro voto del gruppo del Popolo della Libertà è un voto negativo, contrario, non tanto sull'accentività del debito fuori bilancio che non è in discussione, ma per le motivazioni politiche che stanno avendo, le motivazioni di scelta di questa amministrazione, o meglio di scelta di l'Italia, forse è più corretto dire, dall'amministrazione precedente, che andrò meglio a spiegare nei secondi due, nella seconda soprattutto, perché sono molti passaggi comuni a questa delibera, però secondo me assumo maggior forza nel secondo intervento che andrò a fare, quindi io preannuncio che il modo del Popolo della Libertà sarà molto contrario, soprattutto per il comportamento tenuto dall'amministrazione, come verrà illustrato meglio nel secondo intervento, grazie.